Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Carmi Special, non fate caso al mio aspetto e alla voce un po' nasale ma non so proprio benissimo Conti è un giocatore del Milan, ve l'avevo già annunciato settimane fa, si aspettava solo appunto l'accordo tra le due squadre visto che il giocatore era mai intenzionato appunto ad approdare alla squadra rossonera diciamo che io ovviamente di Juventino volevo magari la Juve appunto provasse a prenderlo perché è uno di quei pochi terzini di destri che ha fatto bene quest'anno quindi uno dei pochi giocatori che sulla fascia destra sta facendo bene ed è ancora giovanissimo la cifra è intorno ai 24 milioni di euro più se non sbaglio il cartellino di un giovane del 97 Pessina se non sbaglio quindi la cifra un po' che richiedeva l'Atalanta è stata diciamo accontentata per quanto riguarda l'acquisto diciamo che il Milan si sta completando manca solo il regista del centrocampo per il resto veramente la formazione titolare è stata rivoluzionata e se Montella l'anno scorso ha fatto diciamo dei miracoli portando la squadra in Europa League quest'anno veramente può fare davvero bene provare appunto per un posto in Champions quindi veramente il Milan si sta completando diciamo che Conti è più un esterno che è un vero e proprio terzino infatti quest'anno ha giocato con il centrocampo a 5 con la difesa a 3 dietro e forse proprio questo ha fatto sì che appunto potesse avere una proiezione offensiva ha fatto molti gol, diversi assist e quindi ha fatto molto risaltare col suo spessore, ha fatto vedere come ha una buona vena realizzativa è bravo appunto a fare degli assist forse pecca un po' in fase difensiva infatti vedremo come si comporterà magari in una difesa a 4 un'altra piccola pecca che ha sono i cartellini gialli veramente ne prende tantissimi è un po' forse troppo impulsivo e dirruendo certe volte però appunto magari con il tempo avrà modo di migliorare anche questo aspetto per il resto un grandissimo colpo non tanto perché sia un fenomeno ragazzi ma più che altro perché come terzini destri non ce ne sono davvero tanti buoni in circolazione quindi il Milan si è assicurato uno dei migliori prospetti da questo punto di vista in quel ruolo quindi davvero un ottimo colpo ancora del Milan ditemi voi invece cosa ne pensate di questo acquisto qui sotto lasciate un like se sotto giù siete d'accordo con questa piccola analisi che ho fatto e iscrivetevi se non siete ancora inscritti ci vediamo con un prossimo video alla prossima ciao